Ed eccoci qui a parlare dell'ultimo acquisto della Sverona, vale a dire Kespa Tankset che appunto il Verona stesso ha prelevato in prestito con dito riscatto sui 7 milioni dal Benfica e quindi sono qui per parlarvene, non è un video dove metterò video del giocatore semplicemente perché non ne ho trovati insomma di esaustivi perché comunque sono risalenti a un periodo che secondo me in parte è andato per Tankset quantomeno ad ora e neanche le statistiche perché secondo me, o meglio, le statistiche sono molto parziali per quanto riguarda la scorsa stagione quindi preferisco parlare di proprio core a core di questo giocatore e poi vederlo in azione in Serie A di Tankset possiamo dire che è un attaccante centrale che sa giocare sia sulla destra che sulla sinistra quindi una punta centrale di movimento che può fare anche l'ala destra di piede 184 cm in normolineo una muscolatura molto importante sia sui quadricipidi che nella parte superiore del corpo e che si è messo fondamentalmente in luce nella sua squadra di formazione che è stato il Michelin lui fa parte di quella generazione come anche vi era Christian Tu altro giovane classe 2000 che poi non ha sfondato particolarmente ma Tankset insomma si era messo in grande luce soprattutto in formazione under 19 del Michelin per poi insomma fare un percorso all'Orsense poi trasferirsi a Rosenborg dove ad ora insomma ha disputato da professionista la migliore stagione e poi il passaggio al Benfica in contemporanea con Sheldrup Andreas Sheldrup che anche lui insomma adora anche se è molto giovane 20 anni all'epoca era molto giovane quando avvenne il trasferimento forse 18 non rese, non ha reso moltissimo ad ora ma comunque Kasper Tankset è un giocatore comunque dalle doti interessanti lui è la classica punta di movimento che fa della corsa il suo punto forte perché ha una bella velocità, una bella esplosività, non ha una falcata frequentissima però veramente ha una corsa molto potente ed è difficile stare lì dietro e è appunto questo misto di caratteristiche tra punta centrale e ala ma come punta centrale non come ecco il diurici della situazione bensì una punta che fa movimento, che apre spazi, che sa sfruttare gli spazi lui ha dei tempi di inserimento, sa bene occupare l'area sa bene i movimenti attaccanti quindi tirarsi indietro quando deve e attaccare appunto lo spazio quando deve un giocatore che fondamentalmente al Verona si dovrà ritrovare perché comunque come ho detto prima la stagione pazzesca è stata a Rosenborg nel 2022 14 partite, 15 gol e 9 assist numeri che poi non ha più proposto comunque al Benfica ad esempio ha fatto 35 partite 4 gol se non ricordo male e 7 assist quindi numeri veramente bassini non ha giocato tantissimo ma ci sarà stato un motivo nel senso dubito che un giocatore come Tengstead sia stato preso e poi partito preso messo in panca sicuramente ci saranno state delle problematiche di adattamento magari con le solite cose che insomma ripeto spesso sul canale con la lingua, con i compagni, con la filosofia di gioco o magari può essere il Benfica un livello troppo alto per Tengstead è normale stiamo vedendo le ultime generazioni di scandinavi di scandinavi scusate che non tutti hanno più la cazzimma dei vari Thomason, Helweg, Kenneth Anderson e questi qui sono un po' più hanno tante doti ma sembrano quasi un po' più fragilini hanno un'adattabilità minore e vediamo che fanno sempre lo stesso giro quindi talenti di Danimarca escono Portogallo, Germania, Olanda ultimamente anche molto in Italia si fanno quei due, tre annetti dove magari alcuni non rendono molto per poi tornare in Danimarca o magari passare da leghe un po' più alte di livello a leghe un po' più basse quindi può darsi pure che il Benfica sia stato un po' too much per Tengstead magari dal Rosenborg doveva attraversare un qualche squadra mediana non so magari in Olanda in Belgio e poi magari passare in Portogallo ma ripeto a livello di doti ce l'è interessante perché comunque è un ripeto un attaccante in movimento dal fisico dalle belle letture di gioco comunque è una buona tecnica di base comunque in in Norvegia abbiamo stato un grandissimo feeling con il gol però appena ci sono state delle difese un pochino più performanti ecco che magari lui ha avuto un po' di problemi quindi l'obiettivo del Verona e l'obiettivo anche di Tengstead è quello di rilanciarsi di mettersi alla prova tanto per il Verona presto con diritto di scatto a 7 milioni e vedere quello che veramente vale perché questa stagione secondo me è l'ultima dove Tengstead può comunque fare il passo per lui del 2000 nel 2025 quindi stagione 24-25 questa appunto è la stagione del suo 25esimo anno e se tu non ti dimostri con cazzimma importante in questa stagione dubito che poi riuscire a fare un altro passo ti assesti sul livello medio-basso che non sia serie A che non sia benfica quindi interesse di tutti in primis di Tengstead stesso che comunque riprenda la sua vena quella che insomma aveva nell'anno del 19 del Michelin e quella che aveva al Rosenborg nel Verona nel Verona adesso Paolo Zanetti sta utilizzando un 4-2-3-1 bisogna dire che secondo me è difficile dire dove giocherà perché potenzialmente sono tre le posizioni che lui può occupare punta di movimento alla destra o alla sinistra pieno invertito lui aveva molto questo gioco a rientrare sul piede destro devo dire che col sinistro eh sia anche no è un po' monopiede quindi mi piace molto questo entrare sul destro per poi tentare il tiro a letto comunque la giocata il problema è che in attacco il Verona ne ha tanti Livramento Moschera Flacus Bosili comunque Lazovic che è stato impegnato come esterno di sinistra in attacco Arrui al centro ne ha veramente tanti giocatori delle il Verona giocatori in avanti quindi Adormi vorrebbe dire che potrebbe essere impiegato come esterno sinistro più invertito perché ha giocato Lazovic in quella posizione di campo in queste amichevoli però se Zanetti vuole una punta di movimento ecco che Tengstead entra nelle gerarchie quindi dire dove lui possa giocare è un po' tostarella è veramente difficile ad ora bisogna vedere secondo me caso per caso e il rendimento dei nuovi che Zanetti vuole impiegare come punte perché tu puoi prendere un giocatore e catalogare in un ruolo ma dopo devi volutare anche gli altri ci sta anche Cruz anche se non erro Cruz si è infortunato non vorrei sbagliarmi è anche un infortunio abbastanza importante forse all'LCA non lo so non ricordo bene però sono molte scommesse molti giocatori intescambiabili e bisogna vedere secondo me dove può essere più Tengstead così a rigor di logica onestamente secondo la mia idea lui rende ad ora meglio come alla destra scusate alla sinistra più invertito però ripeto se è un tequartista o un centrocampista centrale o un esterno sinistro un esterno destro più invertito chiede attacca uno spazio o magari entrambi gli esteri più invertito ecco che Tengstead come punta potrebbe dire la sua quindi arretra fa gioco fa regista fronte alla porta e non spalla la porta come il classico degli arieti e smista il gioco crea spazio partendo da dietro si stacca dalle marcature per poi con i vari dai e vai sfruttare rincula indietro apre gli spazi i centrocampisti si inseriscono gli esterni si inseriscono e lui fronte alla porta sfrutta comunque gli spazi che si potrebbero aprire ulteriori perché i giocatori avversari sono mai tenuti dai vari inserimenti di centrocampisti difficile dire però ripeto un'operazione a basso rischio perché ripeto presto con detto riscatto se non ricordo male a 7 milioni e stiamo a vedere vediamo se Zanetti riuscirà a ripercorrere le orme di Baroni perché è molto importante questa cosa fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra impressione che ne pensate dell'acquisto di Tankset vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti